Devi andarci piano, Cobra, o nessuno vorrà più allenarsi con te. Hai ancora tre round. Che mi dici di lui? No. E io ho detto di no. Ma che cazzo fai? Come va, maestro Miyagi? Dai la cera e togli la cera? E quella come si chiama? Tai Bro? E' maleducazione ignorare le persone. Tua mamma non te l'ha detto? Ti ha ordinato la pizza? Era ora. Non sarà la pizza di New York né quella di Los Angeles, quindi non voglio lamentere. Case Walker in persona, incredibile. Che bello vederti. Benvenuto nella terra del sorriso. Vedo che ti sei già sistemato. Sì, sì, ci sono quasi. Ho fatto il check-in, ma credo che io e te non stiamo nello stesso hotel. Sì, ascolta, il mio era già tutto prenotato. Ti sei aggiunto all'ultimo. Pago io per te, mi dispiace. Niente di personale. Ti troverei di meglio se potessi. Hai già conosciuto i ragazzi? Sì, sono tutti molto amichevoli. Eh, brodi, conosci Blackie Chan? Chiudi la bocca. Lui è qui per me. Hai qualche problema? Allora siamo d'accordo. Vado a cambiarmi. Ehi, metti. Con chi mi alleno? Ho ancora tre round da fare. Ci sono un sacco di ragazze con cui allenarti. Che mi dici del vecchietto? Voglio lui. No, no, no. È il primo giorno di Case in palestra. Non fa niente. Mi alleno io con te. Visto? Perfetto, allora. Ascolta, Case. Quel ragazzo è uno tosto. Non preoccuparti, brodi. Tu puoi andare a cambiarti. Sì, col cavolo. Io mi gusterò la scena della Joe. Sarà un gran bello spettacolo. Che fai? Non entri, Jet Li Roy? Dimmi solo quando sei pronto. Andiamo, vecchietto. Fatti sotto. Sì! Amico, non vedo l'ora che Cobra lo faccia a panci. Conviene chiamare i paramedici. Il vecchietto sta per avere una lezione. Sì!